E poi ci sono loro Luke, Eva, Benny e Sam Sono dei supereroi Iron Fist White Tiger No, vabbè, vabbè No, vabbè, vabbè No, vabbè, vabbè No, vabbè, vabbè Ragazzi, avete visto? Hawk non ha costruito solo Hawk Robot Anche Robot Lucertola Robot Scarafaggi Perfino Robot Goblin La valvola mitralica Sta rimanendo aperta Per darci la possibilità di attraversarla Ma com'è possibile? Immagino con un piccolo aiuto Dei nostri amici Funziona Il tuo C sta rallentando la sua frequenza cardiaca Spero solo che possa servire Le armi sono fuori uso Non resisteremo a lungo Non resisteremo a lungo Voglio dire, spero di sbagliarvi, però Mantieni rotta e velocità Qualunque cosa accada Aspetta, non vorrei andare là fuori Sì, vuole andare là fuori Pensavi che ti avrei lasciato tutto il divertimento? E lo chiami divertimento? Combatti con qualcuno grande quanto te O più piccolo Per favore, non avvicinare mai denti e artiglia a Spidey Vale anche per la coda Non possiamo tenerli lontani in eterno Non sarà necessario Siamo quasi alla valvola mitralica Dobbiamo tornare indietro Ok, ti seguo Ant-Man È Fury la missione prioritaria Noni, ora va È un ordine Torneremo ad aiutarti A tutta forza, Luke Che ne sarà di Ant-Man? È in gamba Se la caverà finché non torneremo da lui Sempre che il tempo ci basti Ci siamo Ecco il cervello di Nick Fury Dove sarà il nostro piccolo controlla cervello? Dirigo verso il segnale neuronale del robot di Oak Bingo! Ce l'hai un piano su come staccare il rottame di Oak dalla zucca di Fury? Certo che ho un piano Non un gran piano Ho un piano ben ponderato Però è un piano Visto? È piuttosto ingegnoso, Spider-Man Ma pensavi davvero che avrei lasciato indifeso il mio robot cervello? Questo non faceva parte del piano Ho avuto un'idea però Mi serve qualcuno che tenga occupati quei robot Lo hai chiesto finalmente Quale robot fra voi mi aiuterà a testare la tuta protettiva? Tutti volontari Fatte! Ci va giù per Dante? Allora, vediamo che possiamo fare per Fury Ehi Doc! Saluta il mio Spider-Bot! Disabilito il controllo di Oak Direttore Fury! Nick, ci sei? Direttore Fury? Oh dai Nick, riesci a sentirmi? Spider-Man Sì, ti sento Ti sei connesso al mio tronco cerebrale Siamo qui per liberarti dal... Non preoccupatevi per me Dovete fermare la bomba atomica Bomba atomica? Ah, la giornata non fa che migliorare! Love takes her Oh daiioni vorrei! Love takes her Oh 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 Bic! Le tung is a second